Qual è la forma di cardio migliore per andare a dimagrire, soprattutto se non ti piace correre? Ci sono tante modalità di cardio tra cui scegliere perché l'obiettivo è quello di andare a lavorare a livello appunto cardiovascolare, quindi andare ad alzare i battiti, andare a migliorare la circolazione, la pressione, quindi andare a fare degli allenamenti che possono essere svolti anche in modalità HIIT per esempio, quindi dei circuiti a alta intensità, quindi breve durata, alta intensità, tempi di recupero un pochino più alti, quindi lavorare ad intervalli appunto, lavorare anche con dei circuiti magari a corpo libero, con dei piccoli attrezzi come può essere una kettlebell, dei manubri, salto con la corda. A me piace molto il lavoro appunto a intervalli che può essere sul vogatore, sugli scatti, con il salto della corda ed è un ottimo lavoro cardiovascolare che non ti porta per forza a farti delle lunghe distanze di corsa. Quello che comunque ti consiglio, visto che l'obiettivo è dimagrire, quindi perdere massa grassa, cercando immagino di conservare più massa muscolare possibile, è quello di non sostituirlo al 100% all'allenamento con i pesi, quindi mantenere sempre le tue sessioni di allenamento con i pesi contro resistenza per mantenere bene la massa muscolare, poi unire un paio di volte a settimana almeno anche delle sessioni cardio che possono essere in versione LIS, quindi ritmo lento diciamo a lunga distanza come può essere una corsetta o delle lunghe passeggiate, oppure dei lavori un pochino più intensi e anche un po' più divertenti ma di breve durata.